Questa settimana tende ancora a migliorare, seppure gradualmente, la situazione epidemiologica nel nostro Paese. Il tasso di incidenza è di poco superiore a 120 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti, ma soprattutto l'incidenza decresce negli ultraottantenni come primo segnale dell'impatto positivo delle campagne di vaccinazione. Sale di poco l'RT 0,89, ma è ancora ben al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, si è al di sotto della soglia critica. Dato che siamo di fronte a un periodo di graduali e parziali riaperture, ma soprattutto dato il fatto che c'è ancora circolazione di diverse varianti virali, è bene mantenere i comportamenti prudenti. L'aggiornamento del professore Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione e Ministero della Salute, fotografa la situazione pandemica in Italia. Va bene, ma potrebbe andare meglio. La prevalente circolazione della variante inglese e la presenza di altre varianti che possono eludere parzialmente la risposta immunitaria richiede di continuare a mantenere particolare cautela e gradualità nella gestione dell'epidemia. Il Molise, periodo di riferimento 26 aprile 2 maggio, fa registrare un indice RT puntuale alto, 1.25 il più alto della penisola, limite minimo sotto 1, ma di contro, e aggiungiamo per fortuna, una incidenza del contagio molto bassa, solo 56 casi ogni 100.000 abitanti. Indice da zona bianca e ancora una bassa pressione sugli ospedali. Il Presidente Donato Toma temporeggia ed evita previsioni insidiose, ma consolidata la zona gialla, nel Mirino ora c'è la zona bianca, ed un Molise covid free in vista del periodo estivo e delle vacanze come del resto già accaduto lo scorso anno.